Ciao Ania Che fortuna Adesso esplode No Allora di là non si può andare da nessuna parte No vabbè Continuiamo da questo lato Perché è un megafono? Oddio Lito fine Sapete mettere in moto un'automobile Si vede che sei una donna Ritiro ciò che ho detto Ti prego di me chissà dove andare E siamo salvi Non ancora forse Non è scrupoloso Poliziei Di notte sarebbe meglio Ci sono più opzioni Entrare di giorno nel quartier generale della resistenza Krausa lo è sconsigliato Non l'ha mai fatto nessuno Ma i cieli sembrano scopo Non ci segue nessuno Potremmo essere i primi E' una manovra in due parti Se fatta bene Finiremo in un punto cieco Tutti pronti? Ora via via Che idea geniale quella del mattone La cosa bella dei nazisti è che sono davvero stupidi Saremo nascosti dalla nebbia Nessuno ci vedrà E ora la seconda parte Il salto Una volta sott'acqua Nuotate dietro di me Restate sott'acqua qualunque cosa succeda Ci sono nazisti ovunque Se tornate in superficie Ci uccideranno Non esitate Saltate Saltiamo Mamma mia che acqua pulita Per essere al centro di una città come Berlino No dai va veramente sott'acqua Wow Vabbè diamo una mano Polmoni d'acciaio intanto dietro C'è di solito un tiene Cioè a meno che non si esercita Tiene il respiro per 30 secondi Quando va bene E qua 10 minuti e 50 Recru mondiale tipo Mi dispiace tanto L'ultima volta non c'erano Grazie De nada Caricata anche il coso No dovevo parlare più Ma che cazzo Chi è? B.J. Blazkowicz Chi è? Non deve essere tanto stupido da venire qui in pieno giorno Signora? Vieta di riaverti tra noi Wyatt Caroline Sei viva Se questa merda la chiami vivere Ho tre vertebre spezzate Tu? Trauma la testa Una scheggia di 10 centimetri nella cozza È ancora lì Presezione del colon Shock settico E frattura pelvica Perdita di memoria Flashback 14 anni in manicomio Bello rivederti William Allora Che cosa sai fare? Per la tua collezione J Sono felice di vederti amico Quanto è passato? Tre mesi da quando ti hanno catturato? Pensavo fossi morto sinceramente Di solito le persone che mandano in quella prigione Non fanno mai ritorno Sai? Che storia E vedo che hai portato dei volti nuovi Dei rinforzi per i propri Magnifico amico Sono un carro armato Ho sentito delle voci interessanti da Londra Ho un dossier chiamato progetto Whisper Ma qualcuno l'ha preso Credo sia stato Klaus Saresti così gentile da trovarlo E riportarmelo capitano Con te qui Credo che potremo fare grandi cose Perché non ti siedi qui con me Ania? Ascolta quelle frequenze Se senti qualcosa da Londra Annota l'ora e registra quanti più dettagli possibile Eccoti carta e te Posso utilizzare questa? Sai come si usa? Sì Buon I miei genitori mi hanno insegnato Per scrivere sotto le cordure Ricette e cose simili? Ok perfetto Molto bene Vediamo un po' Allora Qui Vittoria di Asia Vittoria Vittoria di Asia Quella è il regime Traversa l'Atlantico Però il force cade Ma si rialza I rossi si arrendono Vabbè troppo da legge Qui non c'è niente No Soltanto dei documenti Mi hai quell'immagine Allora il tizio qua Che Suona Suo Non ti conosco E non sono in cerca di nuovi amici Wow Allora c'è una mappa qui Un banco da lavoro ben tenuto Non credo che il chitarrista dispiacerasse lo uso Oh posso potenziarmi l'equipaggiamento? Presumo Lo uso e basta Vediamo cosa cava fuori Potenziamento con razza Wow Quindi quando trovo i banchi di lavoro Posso fabbricarmi Potenziamenti perfetti Se non lo strano Solo porta chiusa Qui vediamo un po' Senti ma se parla strettamente con la tizia Ah dopo Facciamo un po' di esplorazione Porta chiusa Forse noi arrivavamo da qua sotto qua Perché parla strettamente con la tizia What? Basta che non mi ostacoli nell'uccidere i nazisti Andremo d'accordo Caroline sta cercando un dossier Progetto Whisper Max non parla molto bene la tua lingua Ma conosce il progetto Whisper È un'operazione rischiosa E sa che ci costerà molto A Max non piace la violenza E non vuole che qualcuno si faccia male Alles in ordine Caroline ha detto che hai preso il dossier C'è lei qui? L'ho preso due giorni fa Oh poverino la testa Scendi al piano terra Il dossier è nel cassetto della scrivania Della sua stanza Dove io l'ho lasciato Ma perché sono tutti stronzi? Da un'occhiata nella stanza di casa Dove essere la stanza di Max Cosa nasconde qui Max? Il dossier sul progetto Whisper? Mi serve un piede di porco Un'idea alternativa Allora non ho la minima idea di come Lo abbia visto Premuto a caso comunque Un piede di porco Un'idea alternativa qua C'è una stanza di... Allora Non posso prenderlo da qua dietro Troppo bello, non è? Allora qui No Provate di... Wow un disco Wow Posso anche ascoltare la musica Incredibile Non smetteremo di stupirmi Sto gioco per queste cose qua Troppi articoli da legge Allora vediamo un po' Qui cosa ci può essere di utile Ma piedi di porco no Decisamente Cari di una bicicletta Dovete Dovresti riposare un po' Tipo in un letto Se tu quando Per l'appunto Sì ma no Così sulla schiena Dormo già io abbastanza Ah bravo Perfetto Ciao Fuso che mori nel sole No dai non voglio tirarli Lai dietro Scusami Dimenticate una porta Perché non c'è la porta Vabbè Proviamo ad andare più sopra Ma quanto è steso Sto impianto Se così lo si voglia chiamare Non si apre Vediamo qui cosa c'è Niente De niente Tools Che bello C'ho i coltelli Da lancio al massimo Piedi di porco preso Va bene Approfitto per vedere Se c'è qualcosa Perché non me lo fa lanciare Vabbè evidentemente qui non posso lanciare la roba Peccato Mi sarei divertito Ma non ce ne sono qua Ma è Metal Slug Ah no è che cazzo dico Metal Slug Figa Perché anche io sono un coglione È Wolfstein Giustamente Incubo Qua mi sa che dopo lo devo tagliare Cos'è vuol dire incubo Vediamo un po' Grazie a tutti Grazie a tutti